Secondo me il fondamentale è questo, io vedrò il ministro del commercio francese non solo lunedì, la lunedì della prossima settimana, secondo me i francesi sono molto allineati, quindi è un problema che non basta, non bastano i francesi, i spagnoli, i polacchi, non bastano, lì c'è un nodo che è un nodo fondamentale, è quello della Germania che è il nodo fondamentale, che la Germania ha dimostrato empiricamente nel primo procedimento di politica commerciale che io ho seguito, che è stato quello sui pannelli fotovoltaici, dove noi abbiamo votato insieme ai francesi e agli spagnoli a favore della proposta della Commissione Europea per i Dazi e dove i tedeschi che avevano promosso la procedura, aziende tedesche, hanno ritirato l'appoggio, questo ha causato un disastro, ma non un disastro per il fotovoltaico, non è questo il punto, il punto è stato un disastro nella gestione del rapporto con i partner cinesi e non perché noi siamo a favore del protezionismo, perché ricordiamoci che i Dazi anti-dumping avvengono quando c'è il Dante e il processo in Unione Europea dura il doppio il processo di investigazione che negli altri mercati, il problema è che voi lo sapete perché avete rapporti commerciali, è che quando, uso un'espressione violenta, ma non vuole esserlo, ma è così, quando uno si cala le baraglie davanti a un partner commerciale, poi è difficilissimo di tirarsi su. E allora adesso l'accordo che è stato raggiunto, che era un accordo necessario perché non avevamo da fare altro ormai, perché si sapeva che non avremmo avuto la maggioranza per confermarli, ha determinato una delegittimazione. Allora il nodo è la Germania, la Germania deve decidere cosa vuole fare all'interno dell'Europa, c'era una copertina di un economist di due mesi fa che diceva la leadership rinutante, la leadership rinutante vuol dire che la Germania che è di fondo esercita un potere quanto di interdizione, non esercita un potere di leadership e sono due cose diverse, perché una cosa è dire tu non puoi fare questo, tu non puoi fare quest'altro perché non mi metto di tre adesso, una cosa è capire che l'interesse della manifattura, in quel caso anche delle aziende tedesche, veniva prima del fatto che il primo ministro cinese andava in visita in Germania, perché se noi lo facciamo in questo modo non andiamo a nessuna parte, allora la questione è la Germania che è una grande potenza manifatturiera e con cui dobbiamo riuscire a ragionare, io spero dopo l'elezione di riuscire a portarli sul terreno di questa comprensione. Grazie a tutti.